non vedevo l'ora ma sta ripartendo ecco non vedevo l'ora ma l'ho visto sta ripartendo sta ripartendo ecco la trasmissione del sabato a sera che si chiama si chiama produzione locale perché come una salciccia è di quando il porco è del posto volevo dirlo quando il porco quando il porco è di qua no no quando il porco è locale si dice produzione locale salciccia quando il latte è della vacca è locale la produzione della mozzarella è locale ecco e quando arrivano due kikocci come noi la produzione è locale quindi produzione locale sabato sera ore 21 che fosse 9 di sera non vi preoccupate stiamo aggiustando lo studio che ci piove ma sono i primi tempi sono i primi tempi si rivolverà meglio